Bella a tutti ragazzi qua è Edda e oggi siamo in un nuovo video scusate se sentite dei rumori e io registro con Mobizen e quindi ragazzi sapete Mobizen non è proprio una macchina seria per registrare ma comunque vedete che ho due bauri giganti li ho trovati adesso in battaglia ho fatto delle partite arriviamo a 3 like e io cercherò di trovare un baule leggendario un baule magico anche super magico e faremo un cestopering arriviamo solo a 3 like ce lo potete fare ce lo potete fare e adesso apriremo il baule tra battaglia tra clan battaglia tra clan ragazzi e li stiamo 1800 di oro 10 mombaroli 50 scariche possiamo portarci da 9 51 goblin forse sono finite le comuni no ancora ecco a 20 giganti e una epica almeno ragazzi quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like condividete con tutti i vostri contatti di whatsapp con tutti i vostri amici diciamo amici e quindi ciao ragazzi ed tv vita